Salve a tutti gente e benvenuti nella mia nuova recensione di Black Panther Wakanda Forever. Finalmente ragazzi siamo giunti alla fine di questa fase 4 della Marvel, con questo film che io ho veramente amato tantissimo. Prima di iniziare con la recensione vera e propria, io vi ricordo come sempre che si tratta di una recensione spoiler, quindi se ancora non avete visto il film, assicuratevi di andare al cinema a vederlo per poi tornare qui. Allora gente, se siete tra coloro che hanno ascoltato il primo episodio del mio nuovo podcast, saprete benissimo quante aspettative avevo per questo film e quanto secondo me ci fosse bisogno in questo momento nell'MCU di un film serio fatto bene come si deve e che riportasse una certa atmosfera in questo universo. Ebbene vi confermo che non solo le mie aspettative siano state ampiamente soddisfatte, ma posso dirvi con serenità che io ho veramente amato questo film. E partirei proprio dicendovi che già dall'inizio del film, quando viene affrontata la morte del personaggio di T'Challa, onestamente non so dirvi perché, ma ho sentito realizzato nello stesso istante in cui ci è stata mostrata la sigla, che ci avesse veramente lasciato. Il silenzio surreale che c'è stato in sala è stato veramente da brividi, e devo dirvelo sinceramente mi sono messo a piangere, perché è stato come se in quell'istante non solo stessi provando quello che sentiva Shuri, ma era proprio come se tutte le particelle del mio corpo avessero realizzato la perdita di questo attore, che ovviamente ha contribuito a creare una grandissima fetta dell'universo di cui vi sto parlando qui sul canale, e quindi lo stesso fatto che il film in sé fosse dedicato a lui mi ha fatto veramente emozionare. Concentrandoci ora sulla trama in generale, anche qui credo che sia stato tutto fatto molto bene, la trama funziona, è lineare, introduce in un modo che io ho veramente amato Riri Williams, che in sostanza ci viene presentata come questo genio liceale, che è stato in grado di costruire questo macchinario per trovare il vibranio, tramite il quale ci viene introdotto il villain di questo film. Prima di soffermarmi però sui personaggi in generale, devo dire che a differenza di molte altre persone, non ho per niente sentito che il film fosse lento. Ovviamente ci sono dei momenti in cui si rallenta un po', ma credo siano del tutto giustificati, e sono convinto che servano al film per spiegare molti degli aspetti che negli altri progetti vengono tralasciati. Infatti in linea di massima preferisco sempre quando il film o la serie tv di turno si prende tutto il tempo per spiegarci le cose che deve spiegare. Ovviamente non tutto il film deve essere lento, ma io credo che in quest'ultimo abbiano fatto un grandissimo lavoro nel bilanciare le scene d'azione a queste situazioni più lente. Ovviamente questa è stata la mia percezione, tuttavia ho bisogno di rivedere il film ancora a minimo un paio di volte per verificare in particolare questa cosa. Come ultimo aspetto da evidenziare assolutamente della trama, devo dire che ho apprezzato moltissimo anche la dinamica che si è creata tra gli Stati Uniti, Talocan e l'Wakanda. Infatti ho trovato molto realistica la posizione strategico-militare degli Stati Uniti d'America nei confronti di questo momento di debolezza dell'Wakanda. E infine mi è piaciuto molto anche come hanno introdotto il personaggio che abbiamo visto in Falcon e Winter Soldier, che rivedremo sicuramente nei Thunderbolts. Passando ora agli altri personaggi, partirei proprio dalla nostra protagonista. L'attrice di Shuri è stata secondo me fantastica, e credo sia stata anche finalmente valorizzata, proprio perché nel primo film non gli era stato dato così tanto spazio. Ovviamente l'abbiamo anche vista affrontare una crescita molto rapida, se la paragonate a come ci era stata presentata nel primo film, ma credo che tutto sommato, avendo dovuto affrontare sia la perdita del fratello che successivamente quella della madre, e ricordandoci inoltre che nel film ci viene presentato un salto temporale di un anno, credo che il percorso e la maturazione del personaggio siano del tutto realistici. E una delle cose che ho amato probabilmente di più del film è proprio che la figura di riferimento di Shuri fosse lo stesso Killmonger, perché lui più di tutti secondo me riusciva a sentire tutto il dolore di Shuri avendolo provato in prima persona. E nonostante ciò, nonostante che a Shuri sia stato portato via tutto, decide comunque di fare la scelta giusta e risparmiare il re di Talocan per mantenere una forte alleanza. E in questo aspetto probabilmente il film riesce più del primo capitolo, perché già nel 2018 avevo sperato con tutto il cuore che il personaggio di Killmonger potesse sopravvivere. In generale quindi il personaggio di Shuri penso sia stato fatto molto bene, così come la sua caratterizzazione e la sua crescita individuale. Ah, e quasi dimenticavo anche la sua tuta, perché se c'è una cosa che avevo sperato nel primo film è proprio che Red Challa decidesse di prendere il costume oro e nero, e onestamente con il design per il costume di questo nuovo Black Panther credo si siano veramente superati. Tornando ora brevemente a parlare di Riri Williams, devo dire che a grandi linee, anche se il personaggio mi sia piaciuto, ho provato una sorta di fastidio nel vederla con l'armatura. Probabilmente perché sono troppo affezionato al personaggio di Tony Stark, ma mi sono un po' sentito come nella serie Falcon e Winter Soldier, quando il governo americano cerca di sostituire Steve Rogers con il prossimo Captain America. E anche se ovviamente qui non è colpa dello stato americano, questa cosa mi ha dato un po' di fastidio, ma credo sia del tutto soggettiva. Ho amato invece il percorso di Okoye, che è andato incontro a una situazione del tutto spiacevole dopo la scomparsa di Shuri. Mi è piaciuto rivedere anche Nakia nei panni di spia wakandiana subacquea e al fianco di Shuri nella battaglia finale. Ora, prima di iniziare a parlare della cosa che probabilmente mi è piaciuta di più di tutto il film, vorrei sottolineare che finalmente, dopo una marea di progetti che hanno avuto difetti sotto il punto di vista della CGI, devo dire che durante tutto il corso del film non c'è stata nemmeno una scena che sembrava essere stata forzata in termini di tempo di realizzazione. Infatti gli effetti speciali durante tutto l'arco del film sono realizzati molto bene e si vede proprio come a differenza della stragrande maggioranza dei progetti di questa fase 4, questo film non abbia difetti sotto questo punto di vista. E ora finalmente, parliamo della cosa che probabilmente mi è piaciuta di più del film, ovvero il personaggio di Namor, o dovrei dire El Nignos in Amor. Non avete idea di quanto io abbia amato questo personaggio? La sua storia, le sue origini, la sua città, è stata veramente la cosa che più ho amato di questo film. Partiamo dal fatto che la sceneggiatura che ho visto in questo film non la vedevo da tempo nel Marvel Cinematic Universe. La pellicola infatti ti propone tantissimi colpi d'occhio sia di Talocan che dello stesso Wakanda che sono veramente a dir poco meravigliosi. Infatti ragazzi non vedo l'ora di rivedermi questo film in 3D, perché credo ne valga la pena. Oltre alla sceneggiatura meravigliosa, non posso non menzionare anche la colonna sonora del film. Perché se il primo capitolo riusciva sotto questo punto di vista, questo secondo capitolo ha veramente superato le mie aspettative. Non solo nella qualità della musica che sentiamo, ma anche proprio in termini di far percepire allo spettatore una certa atmosfera in base al contesto. E se anche voi come me eravate già innamorati della musica del Wakanda, in questo film avrete la possibilità di esplorare un mondo del tutto nuovo sotto il contesto di Talocan. Una città e una cultura presentataci finalmente in un modo adeguato. Ci sono state raccontate le origini del personaggio di Namor come mutante e re di Talocan. E a mio avviso il film, oltre a riuscire a farti capire il punto di vista di questo villain, riesce anche a farti empatizzare con questo popolo. E onestamente ragazzi, a un certo punto del film mi sono veramente sentito nel bel mezzo di Horizon Zero Dawn, per il fatto di avere diverse tribù, molto avanzate dal punto di vista tecnologico, che si facevano guerra a vicenda. In ogni caso, tornando al personaggio di Namor, credo sia a mani basse uno dei migliori villain del Marvel Cinematic Universe. Infatti sono curiosissimo per quanto vogliono fare con questo personaggio, e solo l'idea di vedere un film dedicato a quest'ultimo mi casa veramente tantissimo. Ora, soffermandoci invece sulla parte finale del film, e in particolare anche sulla post-credit che abbiamo avuto, inutile dirvi che a mio avviso, l'alleanza creatasi tra il popolo di Wakanda e il popolo di Namor, penso sarà del tutto necessaria per combattere la minaccia di Kang. Inoltre sono anche curiosissimo di vedere cosa succederà con il figlio di T'Challa, perché credo che potrebbero benissimo utilizzarlo come prossimo Black Panther, ovviamente avendo quindi la possibilità di ricastare l'attore. Quindi gente, questa era la mia recensione spoiler per Black Panther Wakanda Forever, ovviamente come vi ho detto, andrò a vedere ancora il film sicuramente, e avrò modo di riparlarne nel prossimo episodio del podcast. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del film, se vi è piaciuto oppure no, o se lo avete amato quanto me, Io intanto vi ringrazio di essere stati con me, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie.